La decisione del Parlamento francese è contro la vita del nascituro. La società non difende più la vita fragile e innocente, la riflessione di Massimo Gandolfini. È sempre più drammatica la situazione nella striscia di Gaza, dove continuano le violenze e si muore di fame. Questa mattina, a pagina aperta, la testimonianza di padre Ibrahim Faltas, vicario della custodia di Terra Santa a Gerusalemme. Lo Sport e Salute è presentato a Sport Expo che per la 18esima edizione diventa una settimana dello sport in tutta Verona, dall'11 al 17 marzo. Ben trovati a tutti voi in questo appuntamento con Telepace News. Apriamo con la pagina ecclesiale. La superbia è autoesaltazione, presunzione e vanità. A questo vizio è l'ultimo del percorso sui vizi e le virtù, cominciato il 27 dicembre scorso e dedicato alla Catechesi all'udienza generale di oggi, che torna in piazza San Pietro. La legge il padre Rosminiano Pierluigi Girolli della Segretaria di Stato, aiutante mio, dice il Santo Padre presentandolo, perché ancora dice sono raffreddato e non posso leggere bene. La lettura che la precede è tratta dal libro del Siracide, capitolo 10. Di tutti i vizi la superbia è gran regina, scrive Francesco nel testo, e descrive il superbo. È uno che pensa di essere molto più di quanto sia in realtà, uno che freme per essere riconosciuto più grande degli altri. Gesù ci ha insegnato a non giudicare mai. Dentro il male della superbia, prosegue il Papa, c'è l'assurda pretesa di essere come Dio. Essa rovina i rapporti tra le persone, avvelena quel sentimento di fraternità. Vero rimedio ad ogni atto di superbia è l'umiltà da cui passa la salvezza e Maria ne è un esempio. Francesco ricorda infine l'Apostolo Giacomo che ad una comunità ferita da lotte intestine causate dall'orgoglio, scrive Dio resiste ai superbi, agli umili invece dà la sua grazia. Cambiamo argomento. La decisione del Parlamento francese di inserire il diritto all'aborto in Costituzione è contro la vita del nascituro. La società non difende più la vita fragile e innocente. Sentiamo la riflessione di Massimo Gandolfini questa mattina all'interno della trasmissione. Pagine aperte. È una decisione gravissima e, come lei ha detto, sconcertante. Lascia scommenti. Pensare di introdurre nella Costituzione di una Repubblica di fatto il diritto all'aborto. è vero che quello che è stato introdotto è la garanzia dell'assoluta libertà di scelta da parte della donna, ma mettendolo in Costituzione in questi termini significa che non sarà possibile nessun tentativo di una revisione della legge che legalizza l'aborto nell'ottica del favor vite, cioè di poter aiutare e garantire anche il diritto alla vita del bambino. Di fatto, con questo passaggio, ahimè passato con la maggioranza schiacciante sia del Senato che della Camera francesi, con questo passaggio in legge costituzionale, il libero arbitrio della donna nel confronto del bambino è assoluto e totalmente garantito e completamente oscurato e negato è il fondamentale diritto alla vita, che è il diritto alla vita del nascituro e del bambino. Cambiamo di nuovo argomento, è sempre più drammatica la situazione nella striscia di Gaza dove continuano le violenze e si muore di fame. Questa mattina all'interno di pagine aperte la testimonianza di padre Ibrahim Faltas, vicario della custodia di Terra Santa a Gerusalemme, che fra l'altro domani sarà a Verona. Sentiamo. La gente muoia di fame, i bambini di Gaza muoiono due volte di fame a Gaza, quelli che aspettano gli aiuti umanitari che non arrivano e quelli che quando arrivano gli aiuti umanitari fanno una fila grande per ricevere un pezzo di pane vengono anche sparati e vengono anche uccisi. non potete immaginare, adesso noi siamo nel 2024, c'è gente di Gaza, c'è gente in tutto il mondo che muoia di fame, ma soprattutto adesso a Gaza noi vediamo con i nostri occhi, noi vediamo un giorno questi bambini che muoiono di fame. Cosa vogliono di più? Più di 100.000 persone tramorti, feriti, fino adesso oltre quelli che sono sotto il macere che sono migliaia. Anche i corpi sono per le strade, non hanno avuto una degna spoltura. Gaza è diventato un cemeterio a cielo aperto. Cosa dico di più? Anche la Giordania la situazione non è meglio perché più di 400 persone sono state morti fino adesso, tantissimi feriti, 8.000 arrestati e tantissime case distrutte. Se parliamo anche del nord, la situazione del nord è caldissima tra Hezbollah e Israele. Tutta la terra santa in guerra terribile, mai abbiamo vissuto una situazione del genere e speriamo che i potenti del mondo, tutti dicano, tutti hanno capito, tutti hanno capito cosa intendeva Papa Francesco dall'inizio di questa maledetta guerra, ma spero che vengano anche ascoltati. Ed ora andiamo nel Vicentino, nel ricordo della prima apparizione mariana ricevuta da Vincenza Pasini, il santuario di Monteberico promuove una nuova rassegna culturale intitolata Mostrati Madre, ricordando il 7 marzo 1426. Domani sera alle 20.45 nella Basilica di Monteberico verrà proposto un colloquio interreligioso dal titolo Io sono Maria, a cura del mariologo padre Gino Alberto Faccioli. Questo incontro si inserisce nel calendario proiettato verso l'anno giubilare 2026. E questo fine settimana a San Fidenzio, a Verona, si trarà il primo ritiro di Ocesano dedicato alle coppie che hanno perso un figlio. A promuovere questa opportunità e tuo figlio vive, gruppo di accompagnamento per le famiglie che hanno avuto un lutto. Vediamo il servizio di Marina Zarmann. Per chi ha vissuto la tragedia di perdere un figlio o una figlia, fare un percorso di accompagnamento è fondamentale per riuscire ad andare avanti. Così è stato per Orietta il marito Roberto, genitori di Alice, una ragazza vitale impegnata in parrocchia, iscritta a Sociologia Trento, morta 23 anni, dieci anni fa, dopo il trappianto dei polmoni a Padova. Condividere il dolore con altre persone che hanno subito lo stesso lutto ti fa sostenere questo fardello in modo meno pesante, proprio condividere con altre famiglie che hanno avuto la stessa perdita di un figlio. Noi abbiamo avuto anche la fortuna di avere una comunità che quando Alice è venuta a mancare nel 2014 ci ha sostenuto tanto con la preghiera, con le preghiera, finché Alice era in terapia intensiva a Padova, e ci ha aiutato anche a portare proprio i nostri figli e anche me stessa a Padova, a portarci proprio con l'auto di modo che la nostra famiglia fosse unita vicino ad Alice. Allora abbiamo sempre cercato di dare una modalità di vita il più sereno possibile, anzi proprio di snellire la malattia e di tenerla sempre un po' in disparte, per vivere la vita il più possibile serena e soprattutto normale. È importante il percorso di tuo figlio vive perché vuole essere un aiuto che la diocese di Verona dà a queste famiglie che sono colpite e diremmo anche sconvolte da questo immenso dolore che io credo sia il dolore più grande che una persona può provare la perdita di un figlio o una figlia. La fede è stato il punto cardine della famiglia che è stata appoggiata dalla comunità parrocchiale, da una rete di amici e che ha visto nella presenza del parroco un punto di riferimento importante per tutti loro. Mi ricordo che lei è morta alle 11 e mezza, verso le 11 insomma la dottoressa ci ha detto di avvicinarci ad Alice e noi abbiamo preso per mano una mano, l'avevo io, una il papà e c'era questa dottoressa che si è messa a pregare con noi e l'ultima preghiera che abbiamo detto è stata la sequenza allo Spirito Santo proprio. È un dolore immenso e nessuno può togliertelo, si trasforma perché noi in questi dieci anni abbiamo fatto vari percorsi per elaborare il lutto come famiglia, come coppia, i fratelli ma anche come singolo. Però l'aver accompagnata Alice, l'aver donata a dire a Dio, no? Tu l'hai donata a me il 14 ottobre nel 1991, adesso te la riconsegno il 2 ottobre del 2014, abbracciala tu. Io proprio l'ho detto così, Dio abbracciala. E vi ricordo che il ritiro si tarà sabato e domenica a San Fidenzio, sabato dalle 16 l'accoglienza con la riflessione biblica, domenica l'approfondimento psicologico e poi la Santa Messa. Ed infine parliamo di sport, lo sport e salute, presentato a Sport Expo che per la diciottesima edizione diventa una settimana dello sport in tutta Verona, dall'11 al 17 marzo. Vediamo. Orgogliosi di avere a Verona Sport Expo, così il sindaco Tommasi alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione, promossa dal comune Scaligero che avvicina i ragazzi allo sport e che quest'anno per la diciottesima edizione diventa una settimana, si diffonde nei quartieri per mantenere poi l'appuntamento in fiera nei weekend. Lo sport e salute, l'Università di Verona e il Dipartimento di Neuroscienze che io oggi rappresento sono vicini al comune di Verona in questa iniziativa proprio per questo motivo. Lo sport serve per curare le malattie insieme ovviamente ad altri interventi, ma serve anche per promuovere la salute e per prevenire le malattie e questo è un elemento centrale e l'esempio dell'iniziativa di oggi, di questa settimana, è proprio questo, un'iniziativa di promozione della salute. E attenzione, mi piacerebbe sottolineare che l'aspetto di prevenzione e di promozione si riferisce alla salute fisica ma anche alla salute emotiva, l'attività fisica è anche strumento di promozione di questo tipo di salute e di consapevolezza. L'apertura ufficiale è lunedì 11 marzo alle 9.30 al Camploi con il convegno La Tregua Olimpica quando lo sport fermava le guerre, con i saluti del Vescovo e del Sindaco e l'intervento di vari sportivi per rimarcare l'importanza del ruolo dello sport per costruire la pace. Sport Expo compi 18 anni, diventa Sport Expo Week, dall'11 al 17 di marzo si allarga la porta della fiera e si esce, si va nei quartieri e in tutta la città con attività aperte anche ai ragazzi delle scuole superiori, quindi dai 15 ai 20 anni con degli open day, si allarga alla cittadinanza anche con le scuole materne andando a creare appunto delle piastre, attivare delle piastre, attivare dei momenti sportivi anche nei quartieri per le scuole materne e non solo, anche attraverso i tornei scolastici giovanili che appunto allargano anche l'attività rivolgendosi al mondo scolastico con le tornei di pallavolo, di pallacanestro e di calcio. È un allenamento emotivo, è un allenamento relazionale perché lo sport insegna a stare insieme, a relazionarsi, qualche volta anche a entrare in simmetria con gli altri ma a gestire questo tipo di dinamiche. Queste attività fatte ai ragazzi piccoli insegnerà loro ad essere adulti in grado di gestire al meglio questo tipo di aspetti. E prima di lasciarvi vi ricordo che domani sera all'interno di prima serata l'argomento sarà la donna, femminilità, storie da raccontare. È il titolo della trasmissione che sarà condotta da Francesca Martini. A tutti voi grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i programmi di Telepace.